È stato firmato a Firenze l'accordo che incrementa la collaborazione tra Regione Toscana e Stabilimento Chimico-Farmaceutico-Militare in materia di ricerca e sperimentazione. L'obiettivo è aumentare produzione e utilizzo della cannabis terapeutica, fare ricerca per produrre farmaci orfani, ovvero quelli che curano malattie che colpiscono meno di una persona su duemila, e informare i cittadini e i pazienti su queste sperimentazioni e cure. Inoltre la Regione ha messo a disposizione del farmaceutico militare l'esperienza degli operatori del centro di ascolto regionale per favorire l'utilizzo della cannabis terapeutica. Questo tipo di pianta medicinale ha effettivamente una notevole importanza nell'ambito e nell'uso medico. C'è stato nell'ultimo anno un forte aumento della richiesta e lo stabilimento chimico-farmaceutico-militare sta cercando di fare il possibile per aumentare la produzione e garantire anche l'importazione di un prodotto di qualità. La produzione di cannabis nell'Istituto Farmaceutico Militare dovrebbe passare da 150 kg annuali a 300 entro il 2019, grazie anche a questo nuovo accordo che prevede sviluppo, ricerca nel campo dei farmaci orfani, ma non solo, come ha spiegato il direttore dell'Agenzia Industria e Difesa, Anselmino. Non di meno ritengo fondamentale la divulgazione, quindi la formazione, quindi i due argomenti, la ricerca, formazione e divulgazione sono importantissimi e sfruttano cose, capacità che le istituzioni hanno disponibili e le mettono insieme per uno scopo il più importante che c'è, che è quello di sostenere le problematiche, le persone e le malattie. La collaborazione tra Regione e Istituto Farmaceutico Militare dura due anni, con possibilità di revisione annuale.